Questo programma è promosso da Anci Abruzzo e Isea, con il sostegno di Ecosism, Didonato S.P.A., Fratelli Ettore e Carlo Barattelli, Sciarra Costruzioni, Ierbelli Costruzioni, Falone Costruzioni, Eternedile e Magazzini per l'edilizia, Madis Costruzioni. Riparte dopo la pausa estiva il viaggio di cantiere Abruzzo e riparte dai banchi di scuola, delle scuole edili di Chieti e Pescara per fare il punto della situazione sulla formazione nel settore delle costruzioni in Abruzzo. Nell'edilizia mancano 265.000 lavoratori. L'allarme è lanciato dall'Associazione Nazionale dei Costruttori Edili, secondo cui lo sviluppo del settore privato è a rischio. Il super bonus infatti sta trainando il mondo delle costruzioni, la domanda di lavoro è in crescita, così come il mercato immobiliare, ma a causa della mancanza di mano d'opera le imprese hanno difficoltà nel riuscire a chiudere i cantieri nei tempi programmati. E questo problema potrebbe mettere a rischio anche le opere che dovranno essere realizzate coi fondi della PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Secondo il Centro Studi del Lance, nel 2022 ci sarà un fabbisogno occupazionale aggiuntivo diretto nel settore di circa 170.000 unità, a cui si sommano 95.000 addetti nei settori collegati, per un totale di 265.000 lavoratori. E le strozzature del mercato sono già in atto. Non si trova il 52% degli addetti alle finiture e il 60% di giovani operai specializzati. A questo si aggiunge la crisi finanziaria del 2008, dal cui tracollo non ci si è ancora completamente risollevati. Allora erano andati in fumo 400.000 posti di lavoro. Le associazioni di categoria chiedono urgentemente al governo un pacchetto di misure che favoriscano le assunzioni e soprattutto la formazione. Intervenga anche il Ministro dell'Università, dicono i costruttori, perché c'è bisogno di lauree professionalizzanti, così come c'è bisogno di istituti tecnici superiori che siano profilati sulle esigenze delle imprese. Occorrono ad esempio ingegneri ambientali, ma anche project manager. Insomma, la formazione dovrebbe evolversi coerentemente con un mercato e con una metodologia di lavoro in evoluzione. La carenza di mano d'opera, sommata ai rincari dei prezzi delle materie prime e alla carenza di alcuni prodotti intermedi, quali ad esempio i ponteggi, rischiano di trasformare una grande opportunità di crescita in un collasso. Nei primi cinque mesi del 2021 alle casserili si è registrato un aumento di operai iscritti dell'11,5%, un trend che se confermato a fine anno garantirà 55.000 operai in più rispetto al 2020. Ma questo non basta a tamponare la carenza di mano d'opera, soprattutto di quella specializzata. Quello delle costruzioni è uno dei settori più in sofferenza, facendo una media di tutti i vari ambiti dell'indotto, a mancare è un addetto su tre. Federico De Cesare, presidente delle scuole Edili di Chieti e di Pescara, a che punto è la situazione dell'occupazione nel mondo dell'edilizia in Abruzzo? Sì, è un momento particolare per l'edilizia nel nostro Paese e anche nella nostra Regione, con i nuovi strumenti normativi che sono stati introdotti e quello Edile è un settore particolarmente attivo in questo momento, ciò nonostante non è sempre facile reperire mano d'opera per questo che è il nostro settore, perché non sempre, comunque non con facilità, è possibile reperire degli operai dal momento in cui in questo settore in pochi oramai si vogliono cimentare. A cosa è dovuto, secondo lei, questa differenza tra la domanda e l'offerta di lavoro? Perché i giovani preferiscono rimanere a casa o fare lavori meno qualificanti in termini di prospettiva futura? Credo ci sia stata una vera e propria evoluzione culturale negli ultimi anni, che non ha interessato solo il nostro settore, ma va vista nell'insieme, per cui c'è una evidente crescita della scolarizzazione e per questa ragione i figli dei nostri operai, come è giusto che sia, vanno all'università, mentre prima magari il figlio dell'operaio a 16-17 anni seguiva il papà per imparare il mestiere. Oggi quindi, torno a dire, c'è una crescita della scolarizzazione, si va molto più facilmente all'università e quindi è più difficile trovare persone che si vogliono cimentare nei mestieri più umili, ma comunque assolutamente dignitosi e ci mancherebbe. E poi c'è anche da dire che anche per coloro i quali vogliono cimentarsi in mestieri che richiedano un'attività manuale, quelli che definivo mestieri più umili, ma comunque dignitosi, c'è la scelta di occuparsi, laddove possibile, in mestieri che siano meno faticosi, dell'operaio edile che indubbiamente richiede un certo sforzo fisico e quindi, ripeto, si sceglie magari dedicarsi ad altri mestieri manuali che però siano retribuiti più o meno allo stesso mondo, ma che sono comunque, ripeto, meno faticosi rispetto all'operaio edile che è un mestiere indubbiamente particolarmente faticoso. E quanto è importante specializzarsi in questo settore e cosa la scuola sta facendo per venire incontro alle nuove esigenze di mercato? È sicuramente molto importante specializzarsi dal momento in cui la richiesta di un operaio specializzato è particolarmente elevata e allo stesso tempo c'è un'offerta molto bassa, come dicevo anche prima. Noi come scuole edili siamo particolarmente attenti alla formazione delle giovani maestranze e cerchiamo quindi anche di tenere dei corsi particolarmente specializzanti proprio per formare dei ragazzi in un determinato settore con delle specifiche competenze che sono sicuramente molto richieste per il nostro settore, specie in questo momento. Vittorio Gervasi, direttore Formedil Pescara, quali sono in questo momento i fabbisogni del settore dell'edilizia? In questo momento, in questo preciso momento storico abbiamo necessità di tutte le figure professionali impegnate nel processo produttivo edile. C'è una fortissima richiesta di manodopera da parte delle imprese edili che non trovano manodopera qualificata e che chiedono a noi della scuola edile ente di formazione di quantomeno cercare di formare nuovi giovani. Ma oggettivamente abbiamo una difficoltà a reperire ragazzi o anche persone di mezza età che vogliono cambiare lavoro, attività professionale o che vogliono riqualificarsi in altro settore, quindi nell'edilizia, che vengono a frequentare i corsi. Quindi lanciamo sicuramente un grande grido d'allarme, siamo qui a disposizione di tutti coloro che vogliono imparare questo bellissimo mestiere che è il mestiere di muratore e che non ha nulla a che vedere con il mestiere che tradizionalmente abbiamo conosciuto, dove c'era molto molto lavoro e sforzo fisico. Oggi c'è tanta tecnologia, oggi ci sono tanti materiali, oggi ci sono tanti macchinari, il settore è completamente cambiato, di conseguenza ci vogliono nuove competenze, ci vuole formazione e ci vuole anche la volontà di venire a frequentare un corso per potersi qualificare professionalmente. Per quale motivo un ragazzo dovrebbe decidere di lavorare nel settore edile? Quali sono i vantaggi che ci sono? Allora, i vantaggi che ci sono è che sicuramente che è un settore in grande ripresa. In questo momento, anche grazie agli incentivi fiscali, ci sono sicuramente ottime opportunità di inserimento e siamo certi che ce ne saranno altrettante nei prossimi anni. Poi diciamo un'altra cosa importantissima, il lavoratore edile ha una buona retribuzione e pertanto, se poi è capace, può ulteriormente accrescere il suo salario. Per questo, entrare in un settore che offre opportunità di lavoro, che può offrire una buona remunerazione e dove tra l'altro c'è bisogno anche di specializzazione, quindi di acquisire competenze nuove che una volta non erano richieste, significa lavorare in un settore dove si è ben retribuiti e dove si può crescere professionalmente e imparare tanto. In questo contesto, come si collocano le donne? In questo contesto diciamo che il gender gap in edilizia è molto forte, cioè le donne occupate in edilizia sono pochissime, per lo più in attività di restauro o decorazione, da un lato. Però dall'altro lato ho in mente un'esperienza molto interessante di una ragazza laureata che ha deciso di lavorare in edilizia, quindi di trovare occupazione in edilizia e tra l'altro di trovare anche occupazione in un tipo di lavoro che è quello su funi, quindi sono quelle figure che adesso vediamo che fanno manutenzione degli edifici calandosi dall'alto e con buono successo professionale e anche con buona soddisfazione. È un modo concreto per dimostrare come anche in edilizia c'è la possibilità per una donna che ha intenzione di occuparsi, ci sono strade che si aprono nuove e forse bisogna superare un po' gli stereotipi del passato che ci hanno abituato a vedere il lavoro in edilizia come un lavoro esclusivamente maschile, mentre offre le opportunità anche per le donne. Pietro Quaresimale, assessore alla formazione della Regione Abruzzo, cosa sta facendo la Regione e il suo assessorato per risolvere il problema relativo alla grande richiesta che si ha in questo momento di figure nell'ambito delle costruzioni, figure che per una serie di ragioni dalla formazione alla specializzazione non si riescono a trovare sul campo. Sì, in effetti stiamo facendo una serie di tavoli regionali, ascoltando le parti sociali e le associazioni di categorie, c'è questa esigenza di alcuni profili, quindi spetta a noi come Regione, in particolare a me che ho la delega nella formazione, trovare delle soluzioni. Sicuramente dobbiamo mettere altri soldi sulla formazione per andare a qualificare questi profili. Stiamo cercando di fare anche delle convenzioni. Un esempio è dato da Ance Teramo che insieme ad un ente di formazione abbiamo fatto questo protocollo per formare questi tipi di profili che mancano soprattutto sul settore edilizio. Poi c'è anche la possibilità di valutare la creazione di una scuola apposita perché appunto l'esigenza è tanta. Molti imprenditori, ma le stesse associazioni di cui facevo menzione, mi hanno fatto questa richiesta. Quindi stiamo cercando di portare avanti questa progettualità perché è veramente un'esigenza del territorio e quindi come Regione Abruzzo faremo la nostra parte. Quali potrebbero essere i tempi di realizzazione visto che c'è l'urgenza anche dettata dalla proroga del super bonus del 110%? Sì, adesso noi stiamo programmando il nuovo FSE delle prossime annualità. In questo contesto troveremo delle soluzioni sia a livello di scuola ma sia come corsi e metteremo ulteriori fondi perché io mi sono trovato in un momento in cui era terminata la vecchia programmazione e quindi adesso con questi nuovi impegni che questa Regione vuole assumere cercheremo di dare delle risposte a queste esigenze che appunto riferivo. Quali sono attualmente gli incentivi per le imprese per formare nuove figure professionali nel settore delle costruzioni? Il mondo delle costruzioni ha subito negli ultimi anni notevoli cambiamenti a partire dall'evoluzione verso le nuove tecnologie, la green economy, la sostenibilità ambientale fino alla grande rivoluzione del super bonus. cambiamenti che hanno dato un nuovo slancio e hanno imposto una velocità incredibile dopo la crisi di questo settore degli ultimi dieci anni. Di conseguenza è cambiata anche la domanda interna di risorse umane e di addetti al settore che devono saper affrontare questi cambiamenti nelle fasi lavorative così come nella conoscenza dei materiali, delle nuove tecnologie da impiegare sino alla sicurezza, la gestione dei rapporti con i nuovi committenti. Per questo sono sempre più necessarie nuove figure professionali specializzate che sappiano coniugare le diverse esigenze. Per formare e aggiornare i propri dipendenti o per formare giovani da inserire in azienda con i nuovi profili professionali rispondenti alle esigenze del settore per le imprese ci sono diverse opportunità e incentivi. La prima opportunità è quella offerta dai fondi interprofessionali. Attraverso l'adesione ai fondi interprofessionali le aziende hanno a disposizione senza nessun costo aggiuntivo risorse finanziarie per la formazione dei propri dipendenti e dirigenti. L'adesione non comporta alcun onere né per i dipendenti né per l'azienda. Infatti l'azienda potrà partecipare ai bandi emanati e promossi periodicamente dal fondo senza nessun onere aggiuntivo, secondo le modalità poi espresse dal fondo stesso. Tutte le imprese beneficiano infatti dell'opportunità di potersi avvalere di questo contributo che è dello 0,30% versato all'Inps, un contributo comunque obbligatorio, il cosiddetto contributo di soccupazione involontaria, che viene poi trasferito al fondo interprofessionale prescelto e destinato appunto a finanziare progetti di formazione. C'è poi il fondo garanzia giovani. Per le imprese che vogliono crescere e investire su giovani preparati e motivati, il fondo garanzia giovani è un'ottima occasione per assumere giovani, usufruire di agevolazioni e incentivi che sono previsti da questo programma, sia a livello nazionale che a livello regionale. Il programma prevede infatti dei bonus per le nuove assunzioni, incentivi per attivare tirocini e contratti di apprendistato o per trasformare un tirocinio in contratto di lavoro. Un'azienda ad esempio può ospitare un tirocinante, formarlo facendogli conoscere direttamente la propria realtà aziendale e indirizzarlo verso quelli che sono i propri bisogni all'interno dell'azienda. Ci sono due tipi di tirocini previsti da questo programma. Un tirocinio extracurriculare regionale, quindi che viene realizzato all'interno della regione di residenza dell'azienda o studio professionale che decide di avvalersene e i tirocini invece extracurriculari mobilità geografica nazionale e internazionale, che addirittura danno la possibilità di mandare all'estero ragazzi per formarsi ad esempio in nuove tecnologie o programmi che nel nostro contesto non sono ancora abbastanza sviluppati. Il tirocinio dura fino a sei mesi e può arrivare fino a 12 mesi per persone con svantaggio ed è prevista un'indennità mensile che viene riconosciuta dalla regione e che varia a seconda delle regioni. Nel caso in cui il tirocinio avvenga all'estero solitamente il contributo regionale è più alto. Quando invece si opta per una nuova assunzione in questo caso vengono proposti degli sgravi fiscali alle aziende. C'è poi un altro interessante fondo che è il Fondo per le nuove competenze. Si tratta di un fondo pubblico, uno strumento di politica attiva cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo che è nato proprio per sostenere le aziende e i lavoratori nella fase post-pandemica attraverso lo sviluppo di una serie di formazioni mirate per lo sviluppo di nuove competenze in modo proprio da andare a soddisfare i fabbisogni emergenti all'interno delle imprese. Questo fondo permette alle imprese di adeguare le competenze dei lavoratori destinando parte dell'orario alla formazione, parte dell'orario di lavoro alla formazione. Le ore di stipendio del personale di informazione sono a carico di questo fondo grazie ai contributi dello Stato e del Fondo Sociale Europeo. Per quest'anno le risorse a disposizione sono state già esaurite ma è stato già annunciato che questa misura verrà rifinanziata a valere sul prossimo programma React EU. Per cui sono già in atto le varie attività propedeutiche e l'acquisizione delle risorse che saranno di circa un miliardo di euro e che quindi potranno garantire un buon incentivo anche attraverso questo fondo. Infine c'è la misura del credito di imposta formazione 4.0, una misura che serve a sostenere le imprese specificatamente nel processo di trasformazione tecnologica e digitale creando o andando a consolidare competenze nelle tecnologie, nelle nuove tecnologie soprattutto, per realizzare il paradigma 4.0, riconoscendo in questo caso alle imprese un credito di imposta che varia a seconda delle dimensioni delle imprese. Si tratta di un credito di imposta del 50% delle spese ammissibili fino ad un massimo di 300.000 euro per le piccole e micro imprese. Passiamo invece ad una percentuale del 40% nel caso di medie imprese è del 30% per le grandi imprese. La misura del credito di imposta viene aumentata per tutte le imprese, fermo restando i massimali previsti, sino al 60% nel caso in cui i destinatari della formazione siano rientrandi tra le categorie dei lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati. Quali sono le spese ammissibili al credito di imposta con questa misura? Sicuramente tutte le spese di personale relative ai formatori che possono essere anche dei dipendenti interni all'azienda. I costi di esercizio invece relativi a formatori e partecipanti, quindi pensiamo alle spese di viaggio, ai materiali, alle forniture di particolari software o strumentazioni che sono necessarie per la formazione. I costi dei servizi di consulenza connessi al progetto formativo e le spese di personale invece relative ai partecipanti alla formazione considerate come spese indirette come le spese di amministrazione, di locazione, spese generali. Le attività formative, come dicevo prima, possono essere erogate direttamente da un dipendente dell'azienda che ne abbia le competenze oppure da soggetti esterni che però devono essere soggetti accreditati dalla regione o dai fondi interprofessionali oppure far riferimento ad una università pubblica o privata o da strutture a queste collegate oppure essere soggetti in possesso di una certificazione di qualità secondo la ISO 9001 del 2000. Il settore delle costruzioni offre una prospettiva lavorativa interessante e soprattutto specializzata ai giovani di oggi. Continuate quindi a seguirci per scoprire ulteriori novità in questo settore. Grazie e arrivederci alla prossima puntata. Questo programma è promosso da Anci Abruzzo e Isea con il sostegno di Ecosism, di Donato S.P.A., Fratelli Ettore e Carlo Barattelli, Sciarra Costruzioni, Ierbelli Costruzioni, Falone Costruzioni, Eternedile e Magazzini per l'edilizia, Madis Costruzioni.